Elegantissimi, abito blu, lo stemma del Padova, puntato con fierezza. Presidente Roberto Bonetto in testa, mister Pierpaolo Bisoli, fresco di guida e assicurata della squadra. Fino al 2020, il calcio Padova viene ricevuto e salutato nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo Moroni. Li accoglie ex calciatore, ex capitano bianco scudato, l'assessore allo sport Diego Bonavina. Li raggiunge ex presidente e primo cittadino Sergio Giordani, fischiato alla festa dai tifosi. Il sindaco sullo stadio confessa. Non mi preoccupo, non sono i fischi che mi fanno cambiare idea su quello che devo fare. Io magari potessimo fare lo stadio, anzi conto molto sul presidente. Oggi si vede tutte le squadre si fanno lo stadio proprio, è un problema societario e non più comunale. È cambiato il clima. In cassa le dichiarazioni, il presidente Bonetto lancia un assist. Il calcio Padova in B dati confesercenti potrebbe valere 10 milioni di euro di indotto. La città, a partire dall'amministrazione comunale, se ne faccia carico. Il nodo cruciale è effettivamente accontentare la città di Padova con una costruzione o una ristrutturazione importante dello stadio. E per fare questo c'è bisogno dell'aiuto delle istituzioni, non solo il comune. Ognuno dovrebbe cercare di fare la sua parte. Al presidente una targa, giocatori e staff tecnico, una medaglia, ricordo a tutti, da Capitan Pulzetti fino al più piccolo, 17 anni appena, Piovanello, l'unico in tuta. E poi foto sulla scalinata.